Musica Lo scorso anno ha tirato 140.000 appassionati delle due ruote. Parliamo della sesta Moto Days che aprirà ai battenti dal 6 al 9 marzo. La Fiera di Roma per quattro giorni mostra i modelli delle principali case motociclistiche, dalle moto agli scooter, dagli accessori all'abbigliamento. Ci saranno aeree riservati allo show con stuntman e freestyler che impressioneranno il pubblico un'evoluzione al limite della fisica, immancabile ovviamente allo spazio dedicato al vintage e alle moto d'epoca.